Partiamo con questa atmosfera, un po' di rosso, un po' di nero, luci spente, un risveglio pensando al Milan che è un po' il nostro panni quotidiano, sicuramente su questo canale ma anche fuori allora vi auguro subito una buona giornata, sperando che possa essere a tinte rosso nere e che possa regalarci finalmente sorprese in un'estate che a livello di calciomercato ci sta facendo un po' penare vi invito a lasciare un bel like qui sotto, se sperate possa essere il giorno tanto atteso e iscrivetevi in questa zona sul logo di Milanello per non perdere nulla sul mondo del Milan in nostro mondo tutto rosso nero, rosso come il fuoco, nero come la paura che inquieteremo i nostri avversari diceva il nostro caro fondatore e allora rosso e nero, speriamo possa essere presto il colore della maglia di un paio di giocatori che avete visto anche in copertina, Char, De Ketelar e Renato Sanchez buongiorno, buongiorno a tutti, accendiamo le luci, vi invito a scaricare gratuitamente l'app di numero 10 mentre apro gli occhi qui sotto c'è il link, ieri abbiamo fatto il nostro primo video un'app davvero top con tanti contributi non soltanto i nostri di Milanello ovviamente gratuita e tra quelli che la scaricano da questo link qui sotto, scrivete nel caso il vostro nome uno vincerà la maglia del Milan della prossima stagione ma non solo poi segneremo anche altre magliette, altri premi, ma ne vale la pena indipendentemente un saluto a Piro che oggi compie gli anni e partiamo subito allora con il video avete visto in copertina De Ketelar in un fotomontaggio con la maglia di allenamento del Milan e dall'altra parte un post di Renato Sanchez e non solo, avete visto anche la foto di ieri Maldini e Massara che ripartivano per l'Italia dopo appunto il blitz, purtroppo senza la fumata bianca per Charles de Ketelar il principino belca che non vede l'ora di vestire la maglia rosso-nera di vestire questi colori in rosso e nero e di togliersi di dosso quell'azzurro azzurro e nero che ragazzi, no good, come avrebbe detto Mario Manzokic non uno che ha scritto grandi pagine e memorabili della storia del Milan, anzi ecco, andiamo subito sul blitz di ieri, abbiamo fatto subito un video in anteprima su YouTube ieri con un primo feedback che c'era arrivato, incontro positivo poi Maldini e Massara di rientro, Maldini soprattutto, che ha parlato, ha detto fiducia sempre, volete chiudere ci proviamo è una dichiarazione che è stata un po' estrapolata, lui ha risposto le domande quando dice fiducia sempre, non è che dice abbiamo grandissime fiducia ma è una risposta un po' di circostanza come dire, c'è sempre fiducia, quindi non vuol dire che in questo caso ci sia detto questo però, trapela un po' più di fiducia rispetto alle parole è vero che la fiducia trapela ormai da giorni oggi bisogna rilanciare ulteriormente trovare questa quadra che non è stata ancora trovata neanche ieri a Bruges oggi o più tardi domani con il Milan che vuole come vi dicevo da qualche giorno portare in Austria il talentino belga che non vede l'ora di giocare con la maglia del Milan dovrebbe prendere la maglia numero 90 questa è l'inscrizione che arrivava anche ieri sera da Sky c'è fiducia, c'è ottimismo, c'è fiducia, lui vuole il Milan ieri però dal Belgio di iscrizione anche contrastante secondo cui ci fosse addirittura ci sarebbe una distanza abissale caspita, se c'è una distanza abissale come si fa a chiudere? ma non credo proprio che sia così non abbiamo questo tipo di risultanze in Italia e dal Belgio dicono che se non si trova l'accordo il Litz torna prepotentemente sul giocatore è chiaro che il Litz è interesse anche del Bruges scatenarlo e in questo caso se lo prendi ovviamente devi prenderlo e siamo tutti contenti se non lo prendi è anche un modus operandi un po' diverso di Maldini e Massara cioè andare, il Blitz, far sapere, farsi riprendere se non lo prendi è uno smacco è uno smacco come altri qui a Milano stanno subendo degli smacchi non indifferenti tra Bremer e Dybala quindi cerchiamo di distinguerci di non finire neanche noi in quella parte lì delle beffe perché questa sarebbe una beffa sicuramente notevole su Ciard e Catlar che tutti vogliono in Milano soprattutto Maldini, Massara, Gazzidis Elio, Threadbird che sta per acquistare il Milan con un prestito da 600 milioni di euro con il closing che è prossimo quindi ragazzi ce la fanno sudare ce lo fanno sudare terribilmente incredibilmente si dice che l'attesa del piacere sia stessa essa piacere non lo so non lo so adesso inizia a essere davvero un po' snervante però abbiamo aspettato 30 abbiamo aspettato 31 aspettiamo 32 aspettiamo 33 sperando che, ripeto, sia una questione di poche ore oggi domani e magari il giocatore va direttamente a quel punto in Austria la butto lì l'importante è che arrivi e che vesta questi colori in tempi molto molto brevi fiducia molta fiducia però è chiaro che noi scottati rimaniamo un po' con i piedi per terra come giusto che sia fronte diverso il secondo fronte e anche qui sono ore decisive è quello di Renato Sanchez giocatore che aspetta anche il PSG il Lille in questo momento sta facendo un po' giustamente dal loro punto di vista gli interessi dicendo che c'è il PSG c'è il Lille adesso rilanciano vogliamo più soldi cercano di scatenare l'effetto asta il giocatore però vuole chiudere o con il PSG o con il Milan in tempi brevi ieri ha pubblicato una foto di allenamento tra l'altro tiratissimo grandi muscoli davvero fisicatissimo e sotto Magic Mike Mignan ho pubblicato anche un breve ritaglio nella copertina scritto ti dona il rosso con una specie di petardo pronto a esplodere e le mani giunte del speriamo tradotto ovviamente dopo Leao anche lui si unisce a quelli che lo conoscono e che a livello di social li fanno capire quanto lo vorrebbero con la madre del Milan lo prossimo anno compagno di squadra nello stesso spogliatoio ricordiamo che Leao è compagno nazionale entrambi portoghese ricordiamo che Mignan è compagno ex compagno ormai del Lille e lo vorrebbe vedere appunto anche qui al Milan consapevole che sarà o PSG o Milan è una partita ancora da giocare che bisogna però provare a vincere il Milan ha sempre avuto speranze però ragazzi adesso si decide un po' la partita o dentro o fuori purtroppo o per fortuna in tanti avete scritto ieri non lo voglio uno che si fa desiderare anche tra qualche mio amico della chat io dico che poi si fa perdonare cioè uno così lo prendo anche se ha avuto per un attimo preferenze altrove Magic Mike Mignan gli fa capire quanto lo vorrebbe qui quanto sarebbe importante nello spogliatoio è diventato un po' un triangolo Parigi Milano Lille un po' un po' anche qui snervante ragazzi vi ricordate ci sono dei meme che dicono ti fare Milan non è non è usurante qualcosa del genere e si vede uno invecchiato oppure il ventenne Andrea Tifa Milan e si vede che è tutto invecchiato io sicuramente quando ho iniziato a parlare di De Ketler di Renato Sanchez mesi fa molti capelli bianchi non li avevo mi sembra quasi di tornare la prima volta che abbiamo parlato di questi due giocatori quasi c'era una delle maglie su vecchie 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 non è così però è lunghissima una trattativa lunghissima può nelle modalità del Milan però ragazzi mamma mia mamma mia che fatica che fatica quasi non vedo l'ora che finisca il mercato perché davvero no scherzi a parte il mercato prima però dobbiamo fare operazioni e ci giochiamo in queste ore De Ketler e Renato Sanchez DK RS sarebbero giocatori importantissimi per il Milan e per evitare anche di andare su piano B piano C eccetera eccetera io dico che almeno uno dei due arriva io spero che arrivino entrambi ovviamente più chance per DK meno chance per RS però ragazzi speriamo di arrivare ecco una cosa che non ho detto che è molto bella significativa fa capire anche quanto sia importante e riconoscibile a livello europeo e spendibile anche il marchio Milan ieri il City ha presentato la terza maglia che è rosso nera ispirata dal Milan con un video molto bello di sponsorizzazione di promozione con riferimenti chiari anche al Milan e beh non è da tutti ed è bello quindi apprezziamo molto molto godibile ora però cerchiamo anche noi di fare come il City portarsi a casa giocatori top ditemi che cosa ne pensate ragazzi vi invito a lasciare un bel like qui sotto se sperate possa essere il giorno iscrivetevi qui è chiaro che la pazienza è quasi esaurita da parte di tutti lo so non dipende da noi non raccontiamo quello che accade tra pela entusiasmo o meglio ottimismo ora però cerchiamo di chiudere scaricate l'app di numero 10 scrivete il vostro nome se avete scaricato da questo link uno vince il ramale del Milan ci saremo abbiamo fatto un video ieri in cui aggiorniamo video un po' più brevi se volete seguirci anche lì ci contiamo un abbraccio a dopo e incrociamo le dita ciao